Perché acquistare? Noleggia! Chiedici come! Soft Technology, via Piano d'Ardine 48B, Avellino, telefono 0825 610 435 La voce di Valle, il comitato dei cittadini del quartiere ha colto questa mattina a braccia aperte gli alunni e i genitori della cocchia, trasferiti presso l'edificio che una volta ospitava i bambini delle elementari del rione. Uno scatto d'orgoglio, un gesto d'amore da parte della periferia che ha rispedito al mittente a testa alta le polemiche serpeggiate alla vigilia animate da alcuni genitori dell'istituto di Toro da Caffuccini che forse non ritenevano all'altezza del loro chissà quale status la sede scolastica di Valle Già ieri i rappresentanti del comitato si erano notati da fare ripulendo la piazzetta dall'erbaccia dai rifiuti a dimostrazione che le barriere tra città e periferia non dovrebbero esistere così come vanno abbattuti i muri della discriminazione, soprattutto quando ci sono i bambini di mezzo Di città ce n'è una sola, Avellino Bene, è un cliché ormai che appartiene solo agli illusi VIP nemmeno sulla carta La voce di Valle ha zittito ogni ignobile rumore E ieri con un gruppo di volontari e tra l'altro ci siamo sentiti orgogliosi perché era quasi tutto femminile abbiamo pulito radicalmente questa piazzetta per accogliere in un modo adeguato e anche molto ospitale di innumerevoli mamme e alunni che tra l'altro non conoscevano neanche come si raggiungesse Valle come strada e devo dire non solo abbiamo ricevuto i complimenti di tutti ma la cosa ci ha profondamente dei sorgogliosi di ciò che avevamo fatto ieri Quali messaggio volete lanciare attraverso questa iniziativa? Il corso che Valle sia considerata una periferia un pochettino abbandonata nel corso degli ultimi anni è un dato di fatto E' pur vero che Valle comunque con questa iniziativa vuole dare il segno che è una periferia ancora viva una periferia attiva dove c'è un popolo che ha voglia di rinascere, di rivivere di dare un senso di comunità che un pochettino si era perso questo è anche un po' l'obiettivo del comitato che abbiamo costituito negli ultimi mesi e quindi l'ossessione stesso, il messaggio che abbiamo mandato è un segnale forte per dire ci fa piacere c'è un nuovo segno di rinascita, di vita in questo quartiere e siamo qui